Ho messo un po' di ammorbidente nell'aceto e ho risolto questo problema che abbiamo tutti nelle nostre case. Guarda come si prepara e fallo anche tu. In un contenitore metti una tazza di aceto. Poi aggiungi mezza tazza di ammorbidente e mescola bene. Una tazza di alcol etilico. E un pugno di chiodi di garofano. Attendi 5 minuti per fare integrare gli ingredienti. Quindi versa in uno spruzzino. Spruzza per casa per allontanare insetti come zanzare e mosche. E per profumare gli ambienti. Per ore e ore. Amerai questo trucchetto. Elimina tutto lo sporco dal gabinetto, le macchie giallastre e i cattivi odori. Con questo pulitore fai da te che fa splendere anche la ceramica e tutte le altre superfici del bagno. In un bowl metti il succo di 3 limoni. Poi aggiungi mezza tazza di detersivo per piatti. Un cucchiaio di dentifricio. E infine un cucchiaio di sale. Mescola bene mentre aggiungi un po' d'acqua. Metti in una bottiglia e il pulitore è pronto. Usa per pulire le superfici del bagno come un normale detersivo. Vedrai come toglierà qualsiasi tipo di macchia e profumerà il bagno.